questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre ecco angelo niente bloccati no l'avevo detto mo lo inizio così ma cock bloccati ragazzi cock bloccati da angelo ah stavi vedendo l'incredibile video di max no no non lo stavo vedendo e ho detto lo dobbiamo vedere per blastarlo apposto per farci arrivare un'altra denuncia fortissima tanto dopo che abbiamo visto un video di tre non esperti di dragon ball vediamo anche il quarto non esperto di dragon ball d'altronde ma io rimpiango oselot sinceramente non ce la faccio più veramente guarda sta gente perché nel basement c'è il basement con dart vader e questo è è lui no è pietro è pietro degradabile e la sa come quello è fra poi pietro è stefano ragone no sarà lui il basement tar possiamo sentire dice solo stronzate te lo anticipa purtroppo già ho visto intanto sto riguardando dragon adesso recentemente si perché è morto toriama e quindi è ripartita di nuovo è ripartito è morto toriama contentissimo vabbè non ecco sì perché è morto toriama e quindi è ripartita di nuovo vabbè l'ha salutato non è che è contento com'era a questo mese si fattura si fattura vabbè forse il gesto è stato compromesso è ripartito è ok nico ball io lo amo sono d'accordo è inguardabile però mi spiega partiamo da questa primissima frase ma lui gli ha chiesto di dragon ball super che ne pensi è ripartito è il ruolo io lo amo sono d'accordo è inguardabile però di nuovo riguardando dragon ball adesso ha chiesto super si perché è morto toriama e quindi è ripartita di nuovo è ripartito è il ruolo io lo amo sono d'accordo è inguardabile però lui dice inguardabile io voglio no 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 sentiamo il cazzo prima di tutto perché le palle sotto il pisello io voglio capire come fai ad amare una cosa che poi dici no è inguardabile ma non è un discorso di critica forse allora se io voglio dire io amo questa cosa io la amo io mi ciuccio tutto il torneo del potere non me ne fregano io mi guardo tutti i film di dragon ball tutte le merda la bella addormentata a castel demonio con dracula coi capelli di goku me lo ciuccio me lo ciuccio perché perché lo amo perché perché porco porco cami io mi compro anche questi ok orripilanti bruttissimi ma è dragon ball io lo amo lo voglio lo voglio casa piena di questa roba qua cioè allora mia moglie l'amo eh però me rompe il cazzo mamma mamma la scassa cazze mugliere o la ami e la ami incondizionatamente con tutti i difetti o non ami sentiamo è inguardabile perché è inguardabile come fai se è inguardabile sentiamo su quale io ogni frase che lui dice io mi fermerò ogni parola fra ogni singola parola che tira fuori davide per vari motivi allora lui dice dei motivi fammi di sentire io non li voglio sentire perché non è vero perché andiamo magari ci sono difetti effettivi che andiamo il motivo la versione giapponese non ha la voce fuoricampo cioè quando due si guardano dobbiamo la voce fuoricampo che dice e ora trunks arrabbiato guarda cell vuole sconfiggilo riuscirà cell è stato invece no in giappone si guardano silenzio silenzio e uno dice ah cosa stanno pensando in italiano detto allora non devono pensare niente i bambini spieghiamo tutto per cortesia molto bene e vedi io voglio dare torto ma più bello in giapponese dove non parla la voce narrante ecco qua è tornato quindicenne allora allora ora adesso io non vorrei fare la punta al cazzo ma i personaggi in dragon ball parlano a sproposito nell'edizione italiana non per i bambini per i genitori per i genitori che non sapendo bene le dinamiche della serie avevano bisogno che ogni tanto arrivasse qualcuno a fare il re cappone no a spiegare a gente come lui a spiegare dragon ball quando i cyborg girano e guardano in giro le versioni giapponese guardano in italia spiega 16 sta cercando a riuscirà trova ho capito molto di da scalico non la sapevo questa cosa ma lui da bambino sapeva la differenza tra dragon ball z da giapponese e dragon ball z italiano o se lo godeva e basta senza rompere il cazzo senza rompere il cazzo infatti sta parlando della sua esperienza attuale la sua esperienza attuale guardando adesso capisce che era effettivamente una merda non è vero perché perché dragon ball in italiano in italiano dragon ball in italiano funziona lo stesso ma gli può dare fastidio no la voce narrante no ma perché ma io voglio capire qual è il problema che lui adesso ha nei confronti non ridere ci ne manca nei confronti di una cosa del passato fra c'è ormai è comunque un'esperienza del passato e ho capito non l'è stata un'esperienza di merda che sicuro da bambino si è divertito come tutti quanti noi chiaro perché era un bambino per l'appunto e quindi si è divertito che vabbè andava a farlo parlare ma stammaci tutti soft io sto softissimo non deve dire non deve dire un pelo senza che io non lo analizzo cioè scusa eh allora è come se tu adesso mi dicessi wow sai che ti dico come ero struz quando eri creature perché non mi mangiava pasta e patana oggi me la mangio è buonissima è questo che sta dicendo la bambina era uno stronzo un coglione un percettore di 104 perché si succiava tutto quello che veniva detto nella tv italiana oggi oggi però sono intelligente perché oggi ho visto qual è la differenza per me quando tu vedi questa roba qua sai che qual è il vero problema della caverna di platone che quando scopri la verità non vedi nient'altro che la verità e non esiste più la bellezza della bugia l'innocenza della bugia lui vede solo la verità e nient'altro ed è una stronzata io ne faccio un discorso di filosofia filosofia anche io grande fan di dragon ci sono proprio i primi numeri che avevo preso stai zitto tu sei un poser c'è un poser dai c'ho i primi numeri di dragon ma che cazzo vuol dire non significa niente non significa niente c'ho i primi numeri di dragon un poser palese un poser dico sempre che nella vita ci sono alcuni momenti che ti ricordi cioè che tu sai esattamente cosa facevi in quel momento e quell'ora non so la vittoria dell'italia nel 2006 e la caduta purtroppo delle torri gemelli gemelle delle torri gemelle e si trasforma in super saian per la prima volta stessa importanza torre gemelle morte morte devastazione di cittadini innocenti e chi cazzo li conosce ma che vuol dire guarda qua da una parte abbiamo la caduta del muro di berlino e dall'altra parte abbiamo la prima loli mai disegnata dai giapponesi direi che c'è un po' di differenza tra questi due eventi cioè esatto si sanno cosa stavano facendo nel mio cuore c'è la puntata arrivederci majin bu ero al quinta elementare ed è stato veramente che poi voglio qual è sta puntata arrivederci majin bu esiste si chiama veramente arrivederci majin bu si se esiste se l'ha nominata ok all'ultimo episodio vabbè non è l'ultimo episodio però è un episodio di ok si chiama proprio arrivederci majin bu si 286esimo episodio vabbè l'episodio si chiama se vuoi te lo traduco perfetto eh lo traduco perfetto c'è chat gpt che ci aiuta il titolo originale giapponese il più forte di tutti son goku la distruzione di majin bu e poi che poi sbagliato e mica lo uccide goku uccidono i terrestri veramente il titolo dice il più forte di tutti son goku non dice goku l'ha sconfitto vabbè però il più forte di tutti è il miss satan non è vero palesemente non è vero però ok vabbè vabbè voglio dire questa cosa poi l'ha detta anche cartoni morti comunque il più forte di tutti in quel momento è ultimate gohan ma che deve fare gli apri il culo ci soffia dentro fa un palloncino di gohan se pensi questa cosa ma cosa dici fra un bambino di merda ma quello è goku è goku solo perché il protagonista in quel momento è più forte gohan ottimo ma è vera sta cosa non vinceva se non vinceva mai vinto mai vinto non vince perché per esigenze narrative alla fine devo vincere il terrestri perché è uno sfigato sicuramente non c'è il concetto di spoiler no no ti spoileravano subito il titolo io adesso il dubbio se in questo caso i cyborg riuscivano a combattere con piccolo con junior titolo episodio è la lotta fra junio e cyborg ho capito ma anche lì arrivederci majin bu cosa poteva fare vabbè però c'è ma cosa significa questa cosa cioè lui aveva il dubbio se piccolo e gli uomini artificiali combattevano combattere con piccolo con junior titolo episodio è la lotta fra junio e cyborg se in quel momento della storia piccolo è il più forte da tutti chi cazzo devono combattere gli uomini artificiali chi lo sa come g e no piccolo più forti veggie in quel momento ho capito ma anche lì arrivederci majin bu cosa poteva essere chissà cosa succederà mai finalmente finita la saga ma poi lui è l'unico che ti fa majin bu ha detto ah ce la fa ce la fa arrivederci majin bu deluso ma che cazzo ti fa per i cattivi ma è normale che facevi un'infanzia di merda scusami eh adesso la rivaluta così ma ti fa i cattivi ma scusa tanti ti fanno i cattivi ma bu si sono belli pure io c'ho i cattivi a casa non è che ti fai i cattivi io c'ho i cattivi tre cani c'ho tre cani cattivi a casa cosa poteva essere chissà cosa succederà mai ah finalmente finita la saga però peggio ancora era il fatto che poi tu magari volevi vedere sul tv sorriso e canzoni dei tuoi se c'era quell'ora dragon ball quella settimana e c'era ma questo era noioso pure da bimbo e guardava il tv sorriso e canzoni per guardare i titoli di dragon ball ma che palle c'era proprio anche il titolo della puntata prima ancora sul diciamolo però gazzo tu prendevi il tv sorriso per masturbarsi si era quasi si masturbava su jerry scott ci stavano le femminelle bellelle e c'era anche l'uomo abberto me lo ricordo perché lo ritagliavo e me lo mettevo qua sull'armato per quello sono fan dei telegatti su antonella clerici lui ride perché l'ha fatto colpevole 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 d'altronde la borra ma quella era quella è un'altra storia ma quella è un'altra storia la borra di sel ma come ridere sel non sborra come ridere mi dispiace non fa ridere che puttata sto guardando che non sto guardando il multiverso poi goku era matto eh goku era matto un padre terribile ma che cosa di basta con sta stronzato ogni volta avete rotto i coglioni sfogliatori siete degli sfogliatori voi non capite niente basta con sta storia solo perché non vedete delle cose all'interno della storia di dragon ball non vuol dire che siano vere come pensate voi basta con quest'idea di goku peggior padre del mondo non è vero non è vero non è così stava via per sacrificato ma che vuol dire che stava via per giorni stava via per giorni cioè una volta è morta vabbè è rimasto ad allenarsi sul pianeta yard rat e vabbè sappiamo che è andata così e si stava allenando e va bene è ok e va bene e ci può stare ma poi è rimasto un sacco di tempo sulla terra che gli altri non ne tengono conto e soprattutto si è fatto un anno intero con gohan nella stanza dello spirito del tempo quindi l'ha recuperato quell'anno legato perché poi la non potevano fare nient'altro che parlare e picchiarsi fra ma scusa ma anche tu no anche ma gohan e goku passano tantissimo tempo insieme c'è il tempo che non passo insieme proprio quei sette anni che goku è morto perché dice vabbè non resto sulla terra perché pare che tutti i cattivi vengono da me tanto vale che non resuscito stavolta resto qui ma abbiamo un'infanzia non raccontata finché ha fatto cioè 4 fino a gohan quando quando gohan a quattro anni sono stare sempre insieme padre e figli poi muore per un anno e poi stanno insieme in ospedale fino a quando poi non si rincontrano su una mac poi un altro anno soddivisi ok poi stanno insieme tre anni di costante allenamento sempre sempre però così fa un altro anno piccolo vabbè secondo padre secondo padre sì sì si fa un anno con cioè in realtà si fa meno anni con piccolo che con gohan grazie cazzo ma anche dire ma giustamente voglio dire no è la gente ancora insiste su questo fatto no no perché così ma non è vero ma non è vero cioè il rapporto discepolo allievo che è importante e il rapporto padre figlio che è altrettanto importante solo perché non è raccontato non vuol dire che non esiste non vuol dire che un padre assente basta sto fatto è una noia un matto totale pensa quella santa donna di sua moglie totale no cosa ha dovuto sia anche lei completamente sottomessa questo uomo voglio dire lo mena sempre cici completamente sottomessa diciamo che cici le fa comodo non dire delle cose a una certa ma mi spieghi quando è che cici è pienamente sottomessa a goku ma in realtà che quando è che succede sottomessi a lei goku è costretto a sposarsi perché non sapeva nemmeno che cosa significava sposare cici è detto tu me l'hai promessa o me lo dai o me lo prendo e goku ha detto eh vabbè tanto comunque te lo prendi e allora te lo do se proprio te lo vuoi prendere cioè io voglio dire è proprio cici che li mena tutti no si incazza si ogni tanto deve cedere perché comunque loro hanno degli obiettivi nobili grandi comunque salvano il mondo non è che vanno a farsi le seghe voglio dire cioè non è che si allenano per cazzeggiare anzi poi cici questa cosa la comprende molto bene che li assiste negli allenamenti prepara da mangiare pure per piccolo tutti questi fatti qua cioè voglio dire comunque guarda da mangiare per piccolo l'acqua l'ho preparato da mangiare un po d'acqua di merda l'acqua è testa ti ho preparato da mangiare eh grazie cazzo non mangio niente è facile prendersi cura di piccolo sono il marito e il figlio che mangiano come delle bestie altri tempi altri tempi un altro Giappone era un altro Giappone comunque è sempre lo stesso Giappone non è cambiato niente chiaramente le donne in Giappone sì sono sempre un po relegate a ruoli di secondo piano in generale in alcuni ambiti non sempre negli ambiti lavorativi è così anzi molte donne in Giappone stanno facendo carriera perché non fanno figli sennò devono fare i figli vabbè domanda che fatidica sul Dragon Ball GT tutto bene Dragon Ball GT Dragon Ball GT tutto bene c'è proprio una malattia del finale è un tumore Dragon Ball GT tutto bene è un tumore e quindi ha detto già cominciamo bene allora no secondo me Dragon Ball finisce Dragon Ball Z ovviamente anche Dragon Ball non parliamo di Dragon Ball Super è una boiata clamorosa capisci un cazzo capisci un cazzo non sapere guardare le cose porta a questo naturalmente ma io ho paura a dirlo perché sembro il boomer invece per le nuove generazioni Dragon Ball Super è una boiata tremenda chiunque lo stia guardando in questo momento è purtroppo una persona stupida tu tu testa di testa lo sai che se oggi Dragon Ball è di nuovo considerato è di nuovo presente in televisione con giocattoli con i videogiochi nuovi con i film nuovi è solo grazie a Doc non è vero è solo e unicamente perché esiste Dragon Ball Super brutti pezzettini di merda anche voi in chat perché se non ci fosse stato il rilancio di Dragon Ball con Super volente o dolente brutti pezzettini di merda Dragon Ball non sarebbe mai ritornato ma ci sa che non vi può piacere Super assolutamente potreste pure dire era meglio se il brand non lo rilanciavano dite quello che vi pare ma se ora vi state godendo Dragon Ball anche questo anche il classico che ritorna perché le nuove serie non fanno male al classico il classico rimane così granitico non è che si distrogge anzi proprio perché c'è una nuova serie c'è una riscoperta di tutto quello che è Dragon Ball quindi se lo state scoprendo adesso o riscoprendo adesso è perché c'è Super e basta è un fatto poi Super può essere fatto una merda pure sì c'è la telesagra di merda ma il fatto è che se oggi si vende Dragon Ball è perché hanno fatto Dragon Ball Super coglioni si stai dimostrando una persona stupida ok perché quella roba lì non è Dragon Ball quella roba lì è una così cioè come non è Dragon Ball cosa vuol dire non è Dragon Ball quella roba lì non è Dragon Ball tanto grazie Maurizio grazie Fabio Otacon ciao grazie qua caccia le sfogliatelle dove dice roba cioè Dragon Ball Super non è Dragon Ball indifendibile ma perché lui ha un'idea di Dragon Ball sbagliata sicuramente sbagliata ha un'idea di Dragon Ball e pensa che sia solo quello cioè che vuol dire allora esattamente uno può dire vabbè io sono cresciuto con i videogiochi di Dragon Ball per me Dragon Ball è quello e tu sei un coglione perché stai ancora a pensare all'anime vecchio per me Dragon Ball sono tutti i giochi che mi hanno cresciuto quando non c'era l'anime di Dragon Ball boom vai tutti i Budokai tutti i Budokai Tenkaichi tutti i Xenoverse vai boom distrutto pisciato in testa le saghe di Xenoverse tutte le saghe di Xenoverse pisciato in testa vai distrutto perché Dragon Ball anime non esisteva più c'era solo il videogioco boom per me Dragon Ball era quello ognuno c'ha il suo Dragon Ball ma non è che tu devi imporre la tua visione di Dragon Ball sugli altri ah ora supererò il mio livello boom ma non è ancora il mio livello boom ora supererò il mio livello boom ah ma tu non hai visto il mio boom e adesso boom è tutto così beh anche Zeta no scusa un attimo perché sei tornato normale vuoi arrenderti niente affatto è solo che vorrei spiegarvi come funziona il meccanismo dei Super Saiyan in modo semplice e chiaro oh super Super Saiyan Super Saiyan grazie non disturbarti grazie non disturbarti non mi importa niente ha fatto sì Babidi in questo momento è Max Angione Max Angione scusa non mi importa niente non mi importa niente Dragon Ball Super ma me esatto cazzo in testa ho messo direttamente scusa Max Angione ti ho messo la Waller a tragolla guardalo bene questo è il guerriero Super Saiyan che ha oltrepassato il limite e si chiama Super Saiyan di secondo livello ehi cazzo di trasformare io non vedo nessuna differenza sono uguali nessuno la vede e quindi e questa è una critica Toriyama ha fatto bene a fare rosso blu bianco almeno sono tre colori diversi mo non potete cagare il tasso mo sono tre colori diversi quindi non rompete i coglioni posso dire però Toriyama che brutta scelta far vedere l'oro con gli occhi chiusi pare sempre che pigliano un cazzo un culo tutti quanti oh cioè è proprio una brutta scelta questa di Toriyama che devono chiudere gli occhi per vedere per se han 4 copiato da questa scena comunque ovviamente non se l'aspettavi non se l'aspettavi non se l'aspettavi non se l'aspettavi trema 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 un po' stronzo con questa trema trema stronzo coco o stronzo torrisi è un po' torrisi è un po' pure coco ma senti un po' e di questa cosa dell'energia consumata il tempo che ne penso c'hai una spiegazione che può rassenerare gli animi tutti questi indecisi allora tu sai benissimo che io sono maestro di head canon di Dragon Ball capiamo capiamo fortissimo riscrivendo Einstein ti spiego una cosa facci caso Dragon Ball a volte può essere un po' come un gioco di scatole cinesi ma facciamolo retroattivo andiamo al contrario e vediamo che cosa succede quando è che gli unici personaggi presenti in Dragon Ball diventano Super Saiyan di terzo livello in che condizioni specifiche sappiamo che lo diventano soltanto Goku e Gotenks perché lo diventano solo loro due e Vegeta o Gohan non riescono a diventarlo Goku si allena in un mondo dove il tempo non ha più alcun valore lui non invecchia lì è tutto statico e Goten e Trunks si allenano in un mondo dove il tempo è rallentato quindi inevitabilmente il Super Saiyan 3 è collegato quantomeno nel raggiungimento della forma a una qualche distorsione temporale ok quindi quindi usarlo usarlo su un piano della realtà dove il tempo ha un effettivo valore significa accorciare qualcosa o perdere qualcosa infatti Goku ha 24 ore di tempo per stare sulla terra 24 ore di un tempo che è quello dei viventi che lui deve prendere in prestito in qualche modo perché nell'aldilà il valore del tempo non esiste proprio e quindi lo consuma lo brucia consuma il tempo consuma il tempo e proprio lui fisicamente non riesce manco più a stare sulla terra cioè sta proprio male a stare sulla terra per lo stesso motivo Goten e Trunks da Super Saiyan 3 consumano più velocemente i 30 minuti che dovrebbero avere si bruciano la loro trasformazione e questa cosa l'hanno mantenuta per ogni singola trasformazione delle fusioni ogni volta che usano le fusioni si trasformano e usano più energia dura di meno non dura mai mezz'ora o un'ora quasi come dicono no no infatti non ci arrivano mai a quel tempo si consumano sempre prima vabbè comunque tutto così Dragon Ball Super spiegata l'energia andava detto effettivamente andava detto tanto tutto vabbè comunque effettivamente non andava detto niente perché comunque è una stronzata quella che ha detto questo ti ha portato a fare quel monologo si esatto hai tanti a scontare che ti ha cambiato la vita tra l'altro parlavi dei tanti finito finito si è finito era questo durato poco posso dire effettivamente dialogo del c***o ma si dialogo fa due che non sanno niente quante ne abbiamo visti di questi dialoghi io ne vedo tantissimi non abbastanza dal vivo io anche dal vivo anche dal vivo ma si appena sono due persone che chiunque può parlare di Dragon Ball lo conosce chiunque no chiunque si sente in diritto di parlare di Dragon Ball solo perché l'ha visto ma non vuol dire che ne sappia esattamente come loro questa scena questa situazione questa situazione certo certo parla 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 Grazie a tutti.